Ragazzi, è uscita una petizione per far togliere i miei film dalle piattaforme. Anche. E l'ambasciatore polacco vuole incontrarli il ministro? No! Che altro c'è? No, la regina, no. Ho fatto incazzare pure Mary il strip, ragazzi. È un incubo. È un incubo. Io ve lo giuro, io non volevo offendere nessuno, era una battuta. Sì, ma io lo so, guarda che non devi convincere me. Nemmeno me. Ma poi la gente lo sa che la scelta di Sophie non è una storia vera, è tratta da un romanzo di uno scrittore americano, no? Perché fanno tutti gli studiati, capito? Ma tu stai calma. Ma sono due ore che mi dici di stare calma, Vittorio. Ma tu combini i casini e io ci devo mettere una pezza. Come?